Ero un po' indeciso sul titolo di questo video, cioè se assegnarlo alle grandi saghe, dove la storia di cui andiamo a parlare è stata ristampata, oppure se al topolino originale su cui è stata pubblicata. Alla fine ho optato per il topolino numero 1800 del 1990, il numero su cui è comparso il primo episodio delle Sette Meraviglie dei Paperi, saga ideata da Fabio Michelini e disegnata da Giuseppe Dalla Santa e Maurizio Amendola. In particolare il primo episodio, apparso appunto sul 1800, venne disegnato da Dalla Santa, a cui peraltro ho dedicato un articolo per un vecchio volume del premio Paper Sera, che vi metto in descrizione. E la storia d'esordio recita Il Cubo di Paperubic. Visto quindi il titolo della storia, come molti avranno immaginato, il video di quest'oggi è dedicato al cubo di Rubik. Che sì, ok, ho sto cubetto qua, magari in un video futuro, chissà quando vi racconterò questo cubetto, da dove arriva, però è giusto per avere un cubo in mano. Prima però di raccontare qualcosa di più dettagliato relativamente al cubo di Rubik, andiamo a scoprire qual è il contesto della saga. Le Sette Meraviglie dei Paperi reinterpretano le Sette Meraviglie del Mondo Antico e nell'episodio iniziale a venire reinterpretate sono le piramidi. Lo capiamo molto bene dall'ambientazione egiziana della prima delle meraviglie papere. Solo che, come è facilmente intuibile appunto dal titolo della prima storia e da come esso è disegnato dal buon dalla santa, è evidente che non si parlerà di piramidi, ma di una struttura che in realtà all'epoca probabilmente non sarebbe stata mai concepita. Nella storia, infatti, il cubo di Rubik viene inventato da Pico da Paperubik, che ovviamente è interpretato dal nostro Pico de Paperis, che è un cubo di Rubik gigantesco. E funziona proprio come il cubo di Rubik, con l'unica differenza che invece di usare le mani bisogna utilizzare delle leve per muovere degli ingranaggi opportuni, perché ovviamente è molto più grande rispetto al cubo di Rubik cui noi siamo abituati. Il cubo di Rubik può essere considerato come una versione tridimensionale dei classici quadrati magici, ma mentre i quadrati magici erano basati su numeri oppure su lettere, il cubo di Rubik è basato su dei cubetti che vengono messi uno accanto all'altro e che vanno mossi. Venne inventato dall'architetto e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974, chiamato originariamente Magic Cube da Rubik stesso, quindi in pratica confermando l'ispirazione dei Magic Square, venne successivamente chiamato Rubik's Cube dalla Ideal, la vita che a partire dal 1980 commercializzò questo rompicapo. L'obiettivo iniziale del cubo però era quello di capire come fosse possibile costruire una struttura i cui singoli componenti si muovevano, senza però che la struttura stessa crollasse su se stessa. Non a caso la prima versione del cubo era monocolore, non aveva cioè tutte le facce colorate di otto colori differenti. La necessità di avere otto colori differenti è oggi quella di risolvere un rompicapo molto diverso. Il cubo di Rubik, se prendiamo come unità di misura il lato del singolo cubetto, è un cubo 3x3x3. E lo scopo del gioco è far sì che, a partire da una data combinazione, con una serie di spostamenti, rotazioni per riga e colonna, si riesca alla fine a ottenere la posizione originale, ovvero ogni faccia colorata di un unico solo colore. Ora, capite bene che esistono una quantità incredibilmente grande di combinazioni possibili per questi cubetti, anche considerando tutte le costrizioni e i vincoli a cui essi sono legati. Ora, per iniziare a fare questo conto, basta iniziare a pensare al semplice fatto che un cubo è costituito da otto vertici e dodici spigoli. Questi otto vertici possono essere disposti in 40.320 modi diversi, frutto dell'operazione otto fattoriale, ovvero moltiplicare otto per sette, per sei, per cinque, eccetera, eccetera, fino a uno. Inoltre, ogni vertice può essere ruotato in tre modi diversi, ma degli otto vertici, alla fine, la posizione di uno dipende dalla posizione degli altri sette. Quindi dobbiamo moltiplicare, per un ulteriore, tre alla sette, ovvero 2.187. Si può fare un ragionamento analogo anche con gli spigoli. In questo caso, però, il dodici fattoriale, coincidente con le disposizioni di dodici spigoli, viene diviso per due, ottenendo più di 239 milioni di modi possibili di disporre gli spigoli. Inoltre, anche in questo caso, gli spigoli possono essere ruotati in due modi diversi. E, ancora una volta, dei dodici spigoli, alla fine, quelli che sono indipendenti sono undici. Per cui abbiamo ancora altri due alla undici da moltiplicare, ovvero un bel 2048. Moltiplicando tutti questi numeri, otteniamo oltre 43 trilioni di disposizioni possibili dei cubetti del cubo di Rubik. Attenzione, i vincoli che sono stati posti per trovare il numero precedente, sono dei vincoli fisici legati a come è costituito il cubo, il suo meccanismo di movimento. Se, invece, avessimo a disposizione i cubi del cubo di Rubik in maniera assolutamente libera da poter disporre come più preferiamo e muovere come più preferiamo, senza appunto il vincolo del meccanismo centrale, otterremmo una quantità di disposizioni disposizioni considerevolmente più alta, ovvero oltre i 519 trilioni di disposizioni differenti. Quando, però, i rompicapi incontrano i matematici, succede sempre qualcosa di apparentemente piuttosto strano. E anche il cubo di Rubik non sfugge a questo caso. I matematici, infatti, sono messi a studiare dal punto di vista delle simmetrie tutte le possibili operazioni che si possono fare su un cubo di Rubik scoprendo che queste operazioni messe insieme costituiscono, appunto, un gruppo di simmetria. Cioè, come dicevo in un altro video, un gruppo in cui vengono messe insieme tutte le operazioni di simmetria che lasciano un dato sistema invariato. Ok, non vado oltre la discussione, altrimenti diventerebbe eccessivamente tecnica. Per chi, però, vuole approfondire la faccenda, lascio in descrizione il link alla voce wiki, dove viene spiegata sicuramente in maniera sufficientemente dettagliata tutta la questione legata al gruppo del cubo di Rubik. In chiusura, però, mi sembra giusto ricordare che, un po' come per i quadrati magici, anche per il cubo di Rubik, esistono tutta una serie di variazioni. Alcune con un numero di cubi più piccolo, altre con un numero di cubi più grande, altre con le facce leggermente bombate, e altri ancora con una struttura di parallelipipedi irregolari diversi o ancora di poligoni irregolari o anche con forme non necessariamente geometriche. Poi c'è la versione tipo Sudoku con i numeri sopra le facce o, in alcuni casi, anche con le lettere. Oppure ci sono delle versioni con dei disegni sulle facce che poi vanno composti, come, ad esempio, era il cubo di Rubik, abbinato a Topolino, dove una faccia era appunto la faccia di Topolino e le altre erano colorate secondo la colorazione standard del cubo di Rubik. Purtroppo, quel cubo di Rubik lì non sono riuscito a trovarlo, quindi non posso mostrarvelo. Però, ciò che posso fare è invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Perché, se non l'avreste capito, siamo arrivati alla fine. Saluti tutti!